Dalla campagna direttamente in città per valorizzare i prodotti agricoli e portarli senza alcuni intermediari al consumatore. Le cooperative agricole del Lazio hanno aperto 9 punti vendita in città a Marchio Qui da Noi, dove offrire formaggi, salumi, oli e vini di qualità a prodotti e realizzati nel nostro territorio, grazie a un progetto nato in collaborazione con l'Arsial e l'assessorata all'agricoltura. L'obiettivo è quello di raddoppiare entro l'anno i punti vendita a taglia filiera, volti a far riscoprire ai consumatori la campagna vicina, la stagionalità dei prodotti, la freschezza, la tracciabilità e il giusto prezzo. A livello nazionale al progetto hanno aderito 180 cooperative con un fatturato generato da 62 punti vendita di oltre 8 milioni di euro annui. L'iniziativa, ha sottolineato il commissario Arsial, Erder Mazzocchi in una nota, ha un grande potenziale strategico in un momento di crisi che ci impone intraprendenza e concretezza. Lo spirito che anima il progetto qui da noi sintetizza i principi ispiratori delle politiche agricole messe in campo dalla Regione che puntano sulla valorizzazione dei prodotti tipici e sulla loro tracciabilità per acquisire competitività sui mercati. Presidente, quali saranno i vantaggi nell'avere negozi cooperativi di vendita diretta? Allora, c'è un doppio vantaggio. Il primo e il più importante è la possibilità di reddito ulteriore per le imprese agricole e soci e conferitrici delle nostre cooperative agricole. Qui il primo obiettivo e il principale obiettivo è quello di dare reddito e sicurezza di reddito ai nostri agricoltori che in alcune situazioni nel rapporto con la grande distribuzione vengono fortemente penalizzati. Il secondo grande obiettivo è di garantire in filiera corta un prodotto sicuro, di qualità, a un prezzo non più basso ma a un prezzo contenuto ai cittadini e ai consumatori della città di Roma. Non ultimo, un altrettanto obiettivo importante è stimolare i cittadini e i consumatori a fare un viaggio verso la campagna, verso i nostri punti vendita diretti, non solo in quelli nella città di Roma che inauguriamo stasera per fargli riscoprire la stagionalità dei prodotti, i luoghi dove vengono prodotti, i momenti in cui vengono prodotti in occasione per esempio della vendemia o della piggiatura dell'olio per far riscoprire non solo le sapienze antiche ma anche i saperi e i sapori che sono dietro la grande cultura della tradizione agricola italiana. Possiamo spiegare meglio come funzioneranno proprio questi negozi? I negozi intanto hanno un marchio ombrello che è qui da noi che non sottrae la storicità delle cooperative agricole che in alcuni casi risalgono a 100 anni fa. Quindi noi non vogliamo assolutamente far scomparire i marchi storici di prodotti che sono conosciuti e sono nella mauria collettiva. Il marchio ombrello è il progetto, vuole essere una messa a rete intelligente di queste imprese agricole, di questi agricoltori che altrimenti da soli non sarebbero in grado di conquistare i mercati. Ma soprattutto quello che è il mercato della vendita diretta, di un mercato che li avvicina accorciando la filiera direttamente ai consumatori. Per cui questo spiega perché non solo punti vendita presso la sede delle cooperative dove sono gli stabilimenti industriali di trasformazione ma anche i punti vendita diretti nella città di Roma, che è il più grande mercato di consumo in Italia. Grazie. Grazie.